In due facciamo l'età del Colosseo, l'immancabile battuta di Carlo Mazzone per presentare la sfida con Nedo Sonetti, due allenatori meno giovani o come vogliamo dire più esperti, di sicuro non i più anziani del campionato. Meno giovani, sì, i più anziani, i meno giovani, è più simpatico, bene, beh, penso che abbiamo onorato il nostro passato calcistico, la partita è stata buona, una buona partita. Mazzone sbaglia, perché gliel'ho detto anche, perché noi siamo due giovanottini che hanno qualche età, perché magari certe volte, insomma, forse bisogna andare a considerare quello che è il cervello, non tanto la carta di Nettita. Quest'anno in trasferta il suo Cagliari non aveva mai vinto e aveva sempre preso almeno un gol, rafforza invece adesso il progetto salvezza con un successo che per il piombinese Sonetti al Livorno ha un significato particolare. Questi ragazzi stanno attraversando un momento importante, stanno migliorando l'autostima, stanno migliorando la propria personalità, sia individuale che di gruppo e oggi si è visto il risultato. Io non so che cosa dovrei rimproverare i miei giocatori, hanno fatto un'ottima partita, c'è tanta amarezza per una sconfitta che non si meritava, il nocciolo della questione è questo qua. Già è il nocciolo della questione, quello che ha visto il Livorno a lunghi tratti, soprattutto nella ripresa, condurre il gioco, decisivo chi menti in almeno due occasioni, ma alla fine a Mazzone rimane solo la delusione, quella di ogni grande occasione persa. Prima sconfitta della sua gestione, inflitta da un gran gol di Suaso, che ha voluto a tutti i costi strappare la gioia più bella a Gobbi, vero, assoluto protagonista dell'azione. Questa vittoria può contare tantissimo, anche la morale nostra va molto in alto. In chiave UEFA passo indietro per il Livorno, l'obiettivo Europa sta mettendo sugli Amaranto una pressione che col Cagliari almeno si è avvertite come. Sarebbe una mossa intelligente da parte di tutti di vivere queste dieci partite che mancano con quello spirito di serenità e di tranquillità. Questo invece chiederlo, quasi pretenderlo, potrebbe essere negativo sul piano psicologico.